Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, ci avviamo verso una fase di tempo tipicamente invernale, di maltempo invernale, infatti è stata emanata l'allerta gialla per neve sulle zone A, B, D ed E, per le zone A e B riguarda sia i comuni costieri che i comuni dell'interno, dalle 6 alle 24 di domani, mercoledì 23 gennaio con valutazioni ulteriori nelle prossime ore, dunque domani un peggioramento con precipitazioni anche nevose, deboli nevicate nell'interno del centro ponente con possibili spolverate anche sulla costa, progressivo miglioramento giovedì con venti di burrasca anche rafficati. Il dettaglio, oggi martedì 22 gennaio, soleggiato con cielo sereno poco nuvoloso sul centro ponente, velature e passaggi nuvolosi sul levante, dalla serata si attende un aumento della nuvolosità e un ulteriore abbassamento delle temperature, venti settentrionali fino a moderati con locali raffiche, mare tra poco mosso e mosso a ponente, poco mosso a levante, temperature massime stazionare lungo la costa tra 9 e 12 gradi, nelle zone interne tra 3 e 7 gradi. Domani, mercoledì 23 gennaio, l'instaurarsi di una circolazione ciclonica sul mediterraneo associata alla discesa di una massa d'aria fredda porta sulla Liguria precipitazioni anche a carattere nevoso. Sul centro ponente sono previste deboli nevicate nelle zone interne, locali spolverate e nevose sulle zone costiere, anche a quote basse spolverate e nevose nell'interno del levante, possibili gelate, venti tra moderati e forti da nord sul centro ponente da est, sud est sul levante, fino al primo pomeriggio segue un rinforzo da nord tra forti e di burrasca. Mare in aumento fino a molto mosso a ponente, tra mosso e molto mosso a levante, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 3 e 5 gradi, nelle zone interne tra meno 5 e 1 grado, massime in diminuzione lungo la costa tra 5 e 8 gradi, nelle zone interne tra 2 e 6 gradi. Dopodomani, giovedì 24 gennaio, precipitazioni nevose e residue, in particolare nelle zone interne che andranno esaurendosi nel corso della mattinata, miglioramento più deciso nel pomeriggio con tempo, in prevalenza soleggiato, 20 settentrionali di burrasca con raffiche anche superiori ai 100 km orai sui crinali e allo sbocco delle valli, mare molto mosso sotto costa agitato a largo, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 3 e 5 gradi, nelle zone interne tra meno 6 e meno 1 grado, massime in diminuzione lungo la costa tra 6 e 8 gradi, nelle zone interne tra 2 e 5 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di ARPAL. A risentirci!